Come fai a rifiutare il mio uccello? Monella! 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 Sei una monella! Sei una monella! Te ne sei andata a San Giorgio Ionico, a Taranto perché volevi una mia foto, ma intanto tu non me la volevi dare. Sto cazzo! Sto cazzo! Sto cazzo che io ti do la foto! Tu non mi hai dato la vagina e io con sto cazzo che ti do la foto! Avvocato! Avvocato! Il fatto è questo, stavano parlando di due opere d'arte mobili, però Giuseppe lui... Io sono nervoso! Sono nervoso! Non si può andare avanti così, avvocato! Lei è pieno di donne, ha un suo fascino, è un professore, è un crito di Godactarte. Tutte le prostitute, tutte le donne le vogliono e a me neanche un chilo di vagina, neanche un chilo di vagina, avvocato! Ma stiamo scherzando! Giuseppe, io sono il nostro chilo di Daniele Bryan. Wow! Sì, sì, sì! That's huge! There he is! Il passato ha just'eruptato! That's a popular decision! Man, you gotta hand me the job, Seda! 15,803 on their feet, Channing, yes! And if Daniel Bryan can be victorious in SummerSlayer, he can, he can start a number, he wants to show it! Salve a tutti, ben ritrovati qui a Radio Davio, alla nostra tredicesima puntata, yes, yes, yes! Io sono Claudio, Claudio Fandangamolo, su qui a fianco a me. Fabio Tingo Dail Picillo. Cari telespettatori di Radio... Telespettatori, scusate, cari ascoltatori di Radio NW. Radio spettatori. Radio spettatori di NW oggi, c'è uno scontro generazionale tra me e Fabio, perché stiamo dedicando un po' di tempo su chi sia il youtuber più geniale tra... Dibattiti artistici! Dr. Clapis, sostenuto da me, è Immanuel Castosi, sostenuto da Fabio. Ma questo non significa che c'è dei problemi, diciamo. Allora, Fabio... Allora, chi è il genio tra i due? Dr. Clavis, sicuramente. Che ha ingarrato soltanto una canzone in tutta la sua vita. Non è vero, ha ingarrato anche il buon Jimmy Lostorpio. Grande capolavoro sociale. Ovviamente. Anal beat non la farà mai, Dr. Clavis. Perché non ha bisogno di fare beat anali. E poi, con tutti i rispetto per Roberta Branchini, ma la nazista che sta in zero carboidrati. Dr. Clavis, se la sogna. E allora non conosci... E poi, Immanuel Castosi non compare insieme a Raffaella Figo nei video di Alfonso Signorini. E di Fedez, ma soprattutto non conosci Stacey Jay, che è la body painter di Milano, che è veramente una bella ragazza. Però non ha un talento. Non lo sai? Eh, passiamo alle cose semplici, signor Amoruso, perché è stata una puntata molto ricca, deve sapere. Una scaletta scritta in mezz'ora, Fabio si è fatta una sudata enorme, che non scriva così tanta roba da... Tre mesi. Da tre mesi, ma anche perché comunque questo è il periodo in cui la WWE è più attiva, o mi sbaglio. Eh sì, di solito l'estate WWE è sempre ottima. E poi se la dobbiamo paragonare alle ultime puntate, tipo pre-payback, era un po' tutta una merda, che non c'era sia in punk. E tu te lo ricordi perché non lo vedevi. Infatti, come faccio a ricordarmelo se non lo vedevo? Ti rendi conto di quanto era merda, dico? A proposito, cari, mentre voi vedete la nostra puntata, noi caghiamo mentre vediamo pain, gain, muscoli e denaro. Grande capolavoro del trash, cioè prendi Michael Bay, Miami, Biondi a caso, che non si sa chi sono, se ci saranno nei film. The Rock, Mark Wahlberg, Max Payne, steroidi, soldi, ragazzi il film dell'anno, se la vende. Poi la trashata dell'anno ve lo consigliamo anche se ancora lo dobbiamo vedere in questo momento. Forza Giuseppe Simone, bene gain 2. Bene gain 2 sulla copertina ci vedi, andate pre-Giuseppe Simone con gli occhiali assoluti. Perchè vero nemmeno di vedere i miei occhi, mi metto gli occhiali. A posto di quella bionda c'è Azora che guarda all'orizzonte. Fantastico. Dobbiamo fare i booker del cinema. Abbiamo perso ben 4 minuti e 43 secondi a parlare di cazzate, direi di iniziare a parlare di Rho. Di Dottor Clavis, Giuseppe Simone, bene gain. Vabbè, non ti dimenticare anche del signor Immanuel Castro. Vabbè, ma lasciamo stare, andiamo avanti. Allora, Rho si svolge nella East Side, cioè a Brooklyn, New York. Ecco, la puntata viene aperta da Brad Maddox che sul ring annuncia di essere il nuovo GM di Dottor. Ma Brooklyn ha lo suo ponte di gomma. Sì, il tuo ponte di Brooklyn. Sì, sì. Iniziamo bene. Brad Maddox annuncia Ziegler Viss vs. del Rio. Viss vs. E ringrazia Vicky Guerrero. E lui dice che vorrà essere il mio GM di sempre. Tu come la vedi questa volta? Sarà il mio GM di sempre. Vabbè, se tipo lo licenziano, prima della prossima puntata di Rho sarà il mio GM di sempre. Perché sarà un grande Rho. Però basta caso fermo, diciamo. E poi nel peggiore dei modi, dopo Brad Maddox e intranti che John Cena. E Maddox dà la possibilità a Cena di scegliere il suo personaggio di SummerSlam perché? Perché lo seguiva da quando era teenager. È un grande fan della tab da blu, evidentemente. Cioè, lo seguiva dai tempi in cui John Cena andava vicino a Carty Ringle e diceva RATRESS AFRESSION! Con quei pantaloncini rossi brutti. E stringeva una parola del tegher e lo guardava sognante. Con la disputa di Champions. E tutti dicevano, vabbè, questo non vincerà mai un cazzo. Ecco, invece... 11-12-13 titoli. Invece è arrivato a battere i protagonisti Pain Again. Che non è... No, è il coprotabolista. Il coprotabolista di Pain Again, che non è cosa da poco. Dopo che li ha presi l'anno scorso. Vabbè, sono dettagli questi. Entra Randy Orton che dice che c'è anche la possibilità che il signor Cena non arrivi con la valigia e con il titolo a SummerSlam. E ci stiamo credendo. E poi la cosa più... Con la sua solita Fandango... E' completamente a cazzo. Fandango che dice che il signor Randy Orton dovrà incassare su di lui la valigetta. Spoiler! Spoiler! Diciamo che... Questo è il Fandango di una realtà alternativa dove Fandango è campione, Hit Slater e ha battuto The Rock, cose simili. Non succederà mai, Long. Dice questa cazzata, Randy Orton si nervosisce e scatta la rissa. E Giorgio si romperebbe un gol e fa Fandango! Scatta la rissa, Brad Maddox ne approfitta alla peggio Teddy Long per far partire il match che viene vinto con un Archeo From Nowhere da Randy Orton. Risultato a sorpresa, quindi. Quanto merdismo c'è stato in un solo angle? C'è, il meno merdismo è la Brad Maddox, pensa un po'. No, io direi Fandango, scusami. Ah, Fandango che vince contro Gerico a merda a Wrestlemania? C'è, Fandango è già merdismo, mo' è uscito ma c'è merdismo per me. Nel backstage, la nostra cara EJ viene lasciata da... La nostra cara EJ viene lasciata da Dolph Ziggler. E' singolo quindi, meglio. Ma noi non abbiamo speranze, questa è una cosa che mi fa rimanere di merda. Quindi, tutte quelle twittate andranno via come lacrime nella pioggia. Tutte quelle twittate, le foto sulla spiaggia. Sembri il corbo. Questa era Blade Runner comunque, signora. Vabbè, torni a vedere Rocky, lei. Maddox nel backstage sancisce il match tra Y2J e Chris Gerico Arvidi. Che io ho pensato fino all'ultimo che uscisse qualche stronzo e dicesse... E dicesse, no questo match non sa da fare, o faremo a SummerSlam. Perché, cioè, non ci credevo. Sì, e poi Del Rio contro Ziggler. Buon match dai due, ma Ziggler perde dopo essere stato distratto da EJ Lee. Addirittura Big E fa partire un feudo con Dolph Ziggler che lo attacca. Mi fa un piacere, leggi come sta scritto sulla scaletta preciso. Ah, Del Rio versus Ziggler. A Jay distrae lo fa accorguto e mazziato. E così. Sì, perché EJ non solo fa perdere invece a Ziggler, ma poi arriva anche Carton innamorato. E gli apre il culo. Mi potete soffermare su Del Rio, Ziggler, EJ e Big E. Secondo te, a SummerSlam vedi più probabile che ci possa essere un triple treat match tra Del Rio, Big E e Dolph Ziggler? Oppure credi alle voci che dicono che sarà Rob Van Damma ad andare contro Del Rio? Beh, prima di tutto sanno, detto che ci sarà Rob Van Damma, già mi fa pensare che il Dolph Ziggler l'hanno cacciato in malo modo dal giro titolato. Cioè, non voglio crederci, ma se è uscita la voce che c'è un altro first contender sarà così. Io comunque penso, cioè, realisticamente penso che dovrebbe andare di un nuovo Ziggler e dovrebbe vincere stavolta. E che comunque aveva perso due volte in maniera dubbia. Ho finito. Ah, no, vabbè, volevo sapere, però ci potrà essere questo triple treat match con anche Big E in serito? Oppure sarà un feudo solo tra Big E e Dolph Ziggler? No, Big E non credo che lo inseriranno in un travertito. Al massimo farà solamente la fai da lui e Ziggler. Ho finito di nuovo, si non ha voluto. Scheggia impazzita e Jay, come la vedi? È sempre figa, è sempre imprevedibile, è sempre pazza e ha un'inquietante somiglianza con il Fantasma di The Crudge. Quando la vedi a terra che muove la testa in maniera inquietante. Andiamo avanti. Andiamo avanti. La Wet Family attacca... Ah, Ziggler e Frocio. Andiamo avanti. Fidiamo scusa a tutti gli omosessuali. Ah, vabbè, per lasciare... Frocio non dichiarato, ecco. Scusiamoci ancora con gli omosessuali. Scusa, Emanuel. Wet Family attacca Hartruth e lascia un messaggio a Kane. Cioè, quando ha attaccato ha lasciato un messaggio in questo senso a Kane. Potrebbe esserci questo match tra la Wet Family e Kane a Summerlam. Si è detto già che Undertaker si sta riprendendo dall'infortunio e quindi non ci sarà Summerlam. Tornerà probabilmente per la Rout to WrestleMania. Tu cosa ne pensi? Si, c'era la voce di Undertaker a Summerlam, sono prontamente mentita. Quindi dubito che ci sarà. Ehm, credo che... Non credo che Kane possa fare la fight da solo. Credo che qualcuno lo va ad affiancare. Cosa ti vedi, probabile, per affiancare la Big Red Machine. Di regola Brian, però sappiamo che già... Sappiamo che è impegnato, quindi non ne ho idea. Andiamo avanti. I Real Americans perdono contro... Si attaccano qualcun altro. Si può affiancare a Kane. Tu vedi, probabile, che ci possa essere unione tra Mark Curry che nel frattempo è stato attaccato dallo Shield e Kane. Dici tu, fanno due contro sei? No, abbo, dico, potrebbe esserci qualcosa. Per esempio fanno due esponenti della Wet Family con altri esponenti della Shield contro... Spero di no, perché è una cagata come Pope. Si. Si fai cagare come Booker. No, per dire. Faccio più cagare di Penny Kane. Real Americans contro Yusos. Yusos vincono tramite roll-up. Nuovi first contender... Tra virgolette nuovi. Di nuovo first contender dello Shield. Ah, si? No, dico, secondo te saranno di nuovo loro a sfidare Seth Rollins e Roman Reigns per i titoli di coppia. Eh, dici tu Mark Curry va contro Dean Ambrose? Sì. E' la sua file. Perché... Eh... Che stavamo dicendo? Ah, ma lo Shield, sì. Allora, Mark Curry andrà contro Dean Ambrose da solo. Contro Mark Curry... Eh, contro Mark Curry. Contro gli altri due dello Shield... Yusos di nuovo. C'è... Come riempitivo proprio. C'è... Time Time Players... No, no, no. Real Americans... No, no. Sono il, sono il. Yusos sono... Ah, Yusos sono gli unici fans. Mi sembra, come tag team. Vabbè, poi c'era il team Cobro, ma... Ma come che... Salutiamo Santino Marella dove sta sta e rimanici. Please. Mr. Money in the Bank Damien Sandow vs Capitano Carisma Christian. Vince Capitano Carisma e dopo che viene attaccato Cody Rozzo... Questa ci tengo a fare una mia... Ti do un mio parere personale. Cody Rozzo si gioca la valigetta in tutto questo feud. Se continua ad avere i pop che sta ricevendo adesso... A SummerSlam vince la valigetta, altrimenti... Senza pop si brucia la possibilità di poter vincere la valigetta. Tu come la vedi? Sì, a parte che è uscito il rumore, comunque già prima... Il rumore che ci sarebbe stato questo match per la valigetta... Comunque già prima... Si... Molti hanno pensato che ci sarebbe stato un match... Per la valigetta tra Damien Sandow e Cody Rozzo... Che Cody Rozzo potrebbe vincere, secondo me. Eh, io dico... Diciamo 70%. Secondo te... Dipenderà tutto da come andrà questo feud oppure già loro hanno deciso... Secondo me non hanno ancora deciso a chi farlo vincere. Se riceverà dei pop molto forti potrebbe vincerlo Cody Rozzo. Io credo che ancora debbano decidere per vedere più o meno Cody Rozzo come sta messo... Quanta presa sul pubblico, capito? Però credo che comunque Cody Rozzo già da ora ha buone possibilità. Lo shield che a proposito attacca Mark Henry... Toonface di Mark Henry come lo vedi? Una stranzata... Si... Una merda. Vabbè, come finirà ora? Eh, basta che non lo affiancano come... A Gret Cali e Halls Vogel come hanno fatto... E Natale, poverino. Eh, basta che non fanno queste merdate... Cioè fanno un... Monster... Monsterface... Che non so se esiste come termine. Vabbè, Ryback era tipo Monsterface quando uscì... Quando andò contro Punk. Eh, comunque sarà meglio Mark Henry. Tutto è meglio. Con tutto l'odio che c'ho per Mark Henry. Naomi vince... Bribella vince... Naomi. La fanco adattina. Che ha molto senso. Non ce ne fonte un cazzo. Ed è pure cessa, diciamo. Tutte le face sono... Si... No, si... Tutte fanno schieramento... Sono delle racchie... Brutte contro Belle. Tranne Laila. Laila... E pure Catelyn. E Catelyn ha solo quel problema là che... È tuzzo. È tuzzo. Però è figo. Eman... Cioè, grandissimo... Cioè, quando c'è Eman e c'è Punk sono di promo assurdi. Cioè, è stato bellissimo. Da Rattress Aggression. Si. Eman dice a Punk che loro sono stati i migliori al mondo. Che hanno quasi battuto l'Undertaker. Che sono stati i più longevi WWE Champion degli ultimi vent'anni. Si, sottolinea... Sottolinea, dice... Noi siamo stati migliori al mondo. Cioè, come vuoi dire... Tu sensi di me non sei un cazzo. Si, perché poi dice... Per te conta solo il titolo WWE, il WWE Universe. Perché non hai famiglia, non hai figli, non hai niente. Ma come tu mi hai tolto il mio miglior amico, io ti tolgo l'opportunità di vincere... Ehm... Il WWE Champion. Ehm... Un po' per il Paolo Pasolini 2, quindi. Si. Poliman. Cioè, è incazzato perché... Sembra anche ha detto, non ti voglio a Bordorino. Si, perché poi comunque Punk gli... Diciamo... Ci ha sputato perché... Dice che lui fa la terra bruciata e che non avrà futuro nella compagnia. Gli dice, sei ha ragione. Poliman gli risponde, sei hai ragione. Si abbassa e sclopper in time e arriva Hulk Lesnar. La cosa anche. Lo vedo molto più simile alla cosa. Ehm... Come lo vedi questo feud? E' figato. Cioè, anche le mazzate che ha preso CM Punk erano... Erano belle. E' stato infortunato. Vedi com'è più bello Brock Lesnar vs CM Punk in confronto a The Rock vs John Cena? Oppure lo stesso The Rock vs CM Punk? Vabbè, ma tu stai mettendo a confronto. Una fight da dove uno si mette a cantare sulla mamma dell'altro e... Invece in quest'altra fight da Brock Lesnar da ammazzate come se niente fosse. Proprio stile Attitude. Anche a Bratless. Più che... Si, ho visto proprio la Rattress... Pure il trattimento di Poliman. Non si vedeva una cosa simile dalla Rattress Aggression secondo me. Vabbè, ovviamente come finirà SummerSlam? Cioè, secondo te è più giusto dare una vittoria a CM Punk oppure dare credibilità a Lesnar per... Per Prestalminia. Che penso che poi lo rivedremo direttamente alla Rattress Aggression. Bella domanda. Eh, davvero non lo so. Cioè, tu come preferisci? Qual è la tua ipotesi, insomma? Vabbè, per me... Forse Brock Lesnar, che comunque la credibilità di Punk non la puoi mai abbattere. Si, Brock Lesnar invece le prende sempre. Che cazzo? Cioè, fai kickasser fra un certo punto poi. Si, hai ragione. Molto catastratto. Si, sarebbe meglio che vingesse Brock Lesnar, ecco. Molto catastratto. Poi magari fanno il rimaggio. Nel backstage, Stephanie McMahon, la catastratta Stephanie McMahon è... L'opera d'arte mobile. E Triple H, si, complimentano con Brad Maddox per l'operato questo primo giorno di scuola. E gli chiedono se avesse parlato con Vince per quanto riguarda la scelta di far decidere assieme al suo avestero per SummerSlam. Cioè, come la vedi? Vedi che Vince McMahon potrebbe entrare nella fight e dire che non sono d'accordo nel vedere Daniel Bryan. Sì, Vince McMahon c'è un posto a Jimmy che gli sta su cazzo Daniel Bryan ultimamente. Però... Non c'è mai stata un'applicazione proprio... Cioè, questa cosa di Vince McMahon della Daniel Bryan non c'è mai stata in maniera forte. Però l'hanno sempre accennato. Come mai? Cioè... Vabbè, giustamente perché vogliono sempre più mandarlo over. Cioè, Daniel Bryan è quel personaggio che tu più lo tratti male e più lui va over. Sì, ma poi stava facendo pure Vince McMahon stava facendo un po' un illo. Cioè, come... È tornato ai vecchi tempi. Il fatto che spalleggiava Vicky Guerrero, oppure che dice... Proposto Vicky Guerrero, nuova GM di SmackDown. Tipo la settimana scorsa e disse... Tu hai buccato questo match? C'è un proverso Stocebio? Questo era da pay per view? Dovevano pagare? Cioè, ti viene a mandarlo a fanculo se non è illo questo? Soprattutto se c'è John Cena. E tu lo sai il rumor? Cioè, prima di tutto è quasi ufficiale che questa... Cosa di McMahon? Che sta tornando... Arriverà Presselmania e The Rock sarà uno dei... No. Stone Cold. Stone Cold. Stone Cold dovrebbe fare... Stone Cold con il rappresentante di McMahon per decidere il futuro della federazione. Amen. Io spero che in realtà... Non dico... Non dico... Sarebbe più giusto sia in banco. Non dico on screen, però io dico... Cioè, spero che anche sotto a banco la mano passi a Triple H che si sta dimostrando ottimo. Ma sarà così. Cioè, questa è la storyline del passaggio di mano. Cioè, con il passaggio di testimone. Y2J... Che poi c'è già stato, però se ne sono dimenticati. Ah, sì. Quando ci fu quello che ho fatto... Quando stava con la giacca rosa Vince McMahon. Match della settimana? Y2J contro RBD. Grande match. Da PPVU. Da PPVU. Ecco, questo Vince McMahon avrebbe detto siete degli stronzi. RBD ten genio. Che tradotto in italiano vuol dire ha molta voglia. Ha voglia di fare. Ha voglia di fare. No, ma quello era Jean-Claude. Ma andiamo. Quello che ti voglio domandare è che... Vabbè, so che tu non segui la TNA. Però in TNA RBD è stato molto famoso per non concedere multi-job. È per cagare sul ring. Ah, eh. Mi hanno detto. No, no, letteralmente. Nel senso che non teniva... Ce l'aveva ma non aveva voglia. Ah, ok. Ce l'aveva il talento ma non aveva voglia. Ma hanno detto. Ti voglio domandare. Secondo te quanta voglia ha lui di vincere il titolo e quindi automaticamente di non voler jobbare a Del Rio? Ovviamente il peso della federazione di Frankfurt si farà sentito in confronto al peso della federazione di Orlando. Diciamo che non sarebbe puoi sbattere pure il cazzo di quello che dice Dixie Carter, eccetera. Ehm... Mi stai chiedendo se andrà per il titolo dei pesi massimi? Si. E soprattutto se vorrà jobbare o se lo vorrà vincere. Se peserà il fatto che lui non vorrà jobbare allora... Ma andarlo per il titolo dei pesi massimi sembra un po' uno spreco però effettivamente cosa gli puoi far fare? Beh ci sono fatti interessanti potrebbe fare... Io direi sia in banco però Sammi sarebbe già occupato sia in banco. Cosa gli faresti fare tu? No io lo farei andare per il titolo... Glielo farei anche vincere. Dico la verità. Glielo farei anche vincere però deve essere un fatto che lui non sia... Cioè... Ci sia sempre se devi fare... Non voglio un rignonato. Allora quando ho capito la... Sarebbe una buona... Il contratto sarebbe tipo quello di Gerico. Sarebbe una buona mossa di marketing farlo vincere a lui al ritorno. Per dare credibilità al titolo dei pesi massimi che non la riavrà mai. Sì. Ah lo spero guarda. Spero che vince pure. E magari dopo va contro Ziegler. Ecco. Sarebbero grandi match. Allora Gerico... Puoi essere il pronostico a strugere. Gerico dopo... Dopo l'ultimo SmackDown è andato in tour con i Fozzi. Lo rivedremo al Road to WrestleMania. No no. Mi sembra ottobre. Non vorrei dire struttare. Mi sembra... No prima della Road. Già per la fine dell'anno. A quanto dice la news. Il rumor che ho letto. Ci mancherà uno come lui giustamente. E che cazzo si. Sì. Sì. Dopo... Cioè ecco. La cosa brutta è avere un segmento come quello tra Paul Eman, Punk e Brock Lesnar. E poi avere un segmento in cui John Cena... Eh eh. Grazie a voi ho scelto Daniel Bryan. Sono ancora in the trees. Yes yes. Pure a gente for che non sapeva niente. Però c'è il pop che ha ricevuto Harvey D quando lui ha detto... Harvey D, Gerico e Fandango. Quando ha detto Harvey D un pop... Sì ma anche Gerico e Fandango. Si sono... Il pubblico si è abbastanza sbracciato. Allora... Per il massimo. Allora io... Dico che... Se vogliamo ottenere il massimo da questa faida. Cioè... Da Daniel Bryan campione. È funzionale il turn-ill di Randy Orton. Cioè... Se vogliamo avere una grande faida in questi mesi. Randy Orton deve essere turnato il... Vincere... Vincere il titolo... Incastando. Turn-ill. Quindi automatico Toomface nei confronti di Randy Orton. Di Daniel Bryan. Ehm... 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 E Randy Orton. Magari perde John Cena ed esce dalla faida. Poi fanno altri due match che culmina Survivor Series. Una delle big four. Il grande palcoscenico. E' di far vincere Daniel Bryan. Come ha vinto Punk due anni fa. Contro Del Rio. Questa la vedo così io. Hai fatto... Hai fatto tutta la faida. Sì. Sarebbe... Cioè che... Randy Orton incassa Summerslam. Su Daniel Bryan che ha appena vinto. Sì. È molto probabile che andrà così. Perché comunque Daniel Bryan non credo che perderà. Perché se perde davvero... Se scende l'arena è più chiasino. Allora. Cosa abbiamo dopo? SmackDown. Facciamo SmackDown? SmackDown che mi aveva fatto troppo cagare. Oh cazzo. Che è successo? Non trovo la... Ah è qui? No. Dammi a me. Vabbè comunque per iniziare SmackDown sul ring abbiamo trovato... Ehm... Quadern Inception? Sul ring c'erano... Booker T, Theodore Long e Vince McMahon. Vince McMahon ha annunciato praticamente che... Ok. Vicky Guerrero sarà la nuova GM di SmackDown. Giusto? Boh... Sì. Ziggler contro Swogger. Vince Ziggler. Ottimo match. Ziggler dice che per lei... Lui è dispiaciuto di aver lasciato a Geli. Poi c'è un grande momento. E poi lui dice... Dice... Sono dispiaciuto di aver lasciato a Geli. Ma sono ancora più dispiaciuto di non aver lasciato prima scatenando i pop del pubblico. Assurdo. Edge è ripresa da un attacco di panico. Viene fermata da... Chad Gaspard. JTG. Charlton. Carlton. Carlton. Ehm... Tio Robinson. Ehm... Aspè. Ehm... Ce ne mancava un altro. Vabbè non fa niente. Vabbè io nel frattempo vado avanti. Ah... Ci ho presno. Che praticamente viene abbracciata. E Rye Black. Viene abbracciata. E... Quasi quasi va per baciarla ma in realtà la bacia sulla fronte e poi si andremo a. Che... Ti sei commosso. Sì sì. Bellissimo. Bellissimo. Ottimi match comunque. Poi c'è stato Brian Miss Barrett con la vittoria ovviamente del Yes Man. Nel Mids TV Wayman dice che lui vuole che Punk stia a casa e non vada dal WWE Universe altrimenti dovrà affrontare chi vuole bene e non vuole che affronti Brock Lesnar. Ovviamente poi The Miz parte con i soliti Willy Willy e poi Layman appunto ha risposto e dice ti posso presentare con lui che ti ha battuto a Money in the Bank. Entra Axel Curtis. Curtis Axel. Axel Foley. Axel Foley. Beverly Hills Cop. Che vince contro Y2J. Attacca e entra Ryback che... E sancisce il suo ritiro per uno. Entra Ryback che è sempre più lontano dalla Jim Mick de Goldberg che prende... Ed è sempre più vicino a quello di Pierpaolo Pasolini. E che prende Chris Jericho e... Ehm... Lo Shell Shock. Lo Shell Shock. Sì ho scritto proprio così. Lo Shell Shock. Perché perdi sempre la pagina? È scritto veramente Lo Shell Shock. Sì. Incredibile poi il segmento tra Damien Sandob e Cody Rhodes dove Damien Sandob dice io ti cedo l'onore di tenere la mia valigetta e Cody Rhodes tra un ennesimo pop del pubblico caccia Damien Sandob e buttaria la valigetta. Rhodes è veramente rischia di vincere la valigetta. RBD contro... Chi ti conosce? Chi ti conosce? Chi ti conosce? Chi ti conosce? Darren Young, il John Cena nero. Vince RBD. E per chiudere... Derrio... Derrio vs Randy Orton. Archeo From Nowhere vince Mr. Money in the Bank. Randy Orton. Come ti è sembrata questa settimana da WWE appena trascorsa? Ma è molto ottima. Molto ottima. Ve lo devo sentire. Ro è stato egregio. Anche catafratto. SmackDown rispetto agli stand di SmackDown è stato un capolavoro. Ok. Giustamente cosa ti aspetti adesso? Facci una probabile... A parte di Daniel Bryan contro John Cena e Brock Lesnar contro... A lui. Cosa ti aspetti a SummerSlam? In generale mi aspetto perché tutto un vuoto siderale lasciato da Gerico. Ovviamente. Mi aspetto. La vittoria di Bryan con Cassirendi Orton come hai detto tu. Di cui uscì pure un rumor. Brock Lesnar che ha fatto il culo a CM Punk. Ti posso un'ultima domanda? Come ti è sembrato Fandango tra i musfi sacri? Nel senso che comunque Ron De Orton e John Cena sono due musfi sacri. Eh ha preso... Come ti è sembrato? Era... Era... Era più fuori posto... Cioè se mettevi un fan tra di loro era più... Era più convincente. Sì. Però è stato molto bello il pop che ha preso... Cioè il pop... E... Quando John Cena sta decidendo gli avversari... Rob Van Damme, Gerico, Fandango... Eeeh! E tutti gli asbracciarsi. Però comunque fa cagare Fandango. Allora Fabio vogliamo intanto... Mi permetti di dire 500 volte grazie... Ai utenti di Spreaker che ci seguono. Di Spreaker sì. Perché comunque 500... Cioè possiamo vantarci nella nostra vita di aver avuto 500 play... Tu come lo vedi? Che gli faremo un regalo. Andremo a vedere Pene Gain e lo dedicheremo questa sofferenza a loro. È un sacrificio che facciamo. Se poi... Cosa ne pensiamo? Di Pene Gain? Stiamo trattando un possibile... Ospiter Rosso Radio Show. Ah... Non si può dire. Però non si può dire chi è ovviamente. Non lo diciamo. Un indizio. Non è John Cena. È molto over tra YouTube. È il più over dei... È molto over tra i... La gente Mark... Però Mark nel mondo. Mark nella vita diciamo. Addi. Di cui è famosa una recensione di GTA V. Hai già detto tutto. Ovviamente proveremo a contattarlo e speriamo di averlo e di offrirlo nella prossima puntata. Più o meno. Anche nella prossima prossima. Allora Fabio... Prima di salutare ricordiamo i nostri contatti. Se ci volete cercare sulla pagina ufficiale di Facebook. Scrivete Radio NW Official. Se non riuscite a vedere le nostre puntate su Spreaker. Potete cercarci all'account MrDragon951. E se ancora non riuscite cambiate computer. Sì. Poi su Twitter Fabio Picillo. E su Twitter Claudio Carisma. Per oggi è tutto. Buon sabato ragazzi. E buon sabato anche a noi che ci andiamo ad assorbire a pain again. Quindi buono per niente. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao. Ciao ma. Ciao. 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 Grazie per la visione!